Proseguono i controlli dei carabinieri tra il territorio di Barletta, Andrea, Trani e Bari e tra questi controlli non sono mancati anche momenti di alta tensione. Dopo il sanzionamento di due attività commerciali durante un'operazione di controllo nel territorio della città di Andrea, uno dei militari del locale nucleo radiomobile è stato aggredito da un cittadino di origini stranieri. Secondo la ricostruzione l'uomo avrebbe prima espresso parole offensive nei confronti dei militari e poi ha aggredito uno degli stessi addirittura colpendolo al volto con una testata. I militari sono quindi intervenuti tempestivamente bloccando il giovane aggressore e arrestandolo. Lo stesso è stato poi trasportato presso la casa circondariale di Trani.